Siamo al top, siamo alla colonna di Pimsley. Ogni anno, alla fine della stagione, Musa e Proloco invitano tutti i suonatori a cena e ad esibirsi nell'albergo di Capano di Cosola, dove confinano le quattro province a 1.200 metri di altezza. Delle 16 esibizioni le abbiamo filmate solo 15, perché noi, le vostre inviate speciali, pur essendo suonatrici, ci siamo dovute sacrificare in due mori. Abbiamo suonato per prima, per avere le mani libere poi, per poter riprendere gli altri. Dai, continuiamo! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.